Benvenuti sul canale Robo di Megalopoli Oggi finalmente le recensiamo il Griffon della 3.0 Lo stavamo aspettando da un po' ed è stato post 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 Per fortuna non l'hanno cancellato ma comunque è arrivato Questa non è soltanto una recensione, c'è anche l'unboxing dentro È possibile grazie all'amico Paul, l'unico altro collezionista di Calgary Che appena gli è arrivato, prima di aprile, mi fa No Valerio, prendilo tu, voglio sapere cosa ne pensi Quindi io dico, cazzo grazie Paul Gli ho detto almeno te lo potevi aprire Comunque niente, facciamo vedere anche l'apertura a riguardo Ovviamente questo è atteso Perché chi ha avuto in mano della 3.0 l'Ingram Sa come la 3.0 fa le cose Come la qualità della 3.0 non è costante Ma anche il tipo di finitura, il tipo di lavorazione che fa Non è proprio, non è sempre la stessa Questa appartiene alla stessa serie RoboDo Del Dankuga, del Galient Ma anche dell'Eva e dell'Ingram prima E come potete sapere o meno se avete qualche pezzo della 3.0 La 3.0 fa le robe in tre modi diversi Opzione numero uno Li fa weathered su, quindi effetto un pochettino rovinati Su quella che è una plastica un pochettino più soffici Io non ho mai avuto problemi di rotture su quelli Però abito anche in un posto dove la temperatura non sale mai sopra i 20 gradi Quindi, vabbè, a questi abbiamo il Galient Abbiamo il Dankuga E anche lì la qualità è un po' attalenante Opzione 2 Ridisegnati in maniera abbastanza eccessiva con panelizzature ma senza weathering Ad esempio il Tecamen originale rifatto Opzione 3 Abbiamo quelli pesanti sul diecast Dei blocchetti di metallo Quindi avevamo l'Ingram Avevamo l'Eva01, l'Eva02 E l'Eva00 l'ho fatto uscire Comunque dell'Eva01 ho fatto vedere una recensione sul canale E praticamente la 3.0 ha fatto innamorare qualche collezionista all'inizio Praticamente facendo uscire prima quello in metallo e poi quello in plastica un pochettino più morbida Adesso già vi dico che questo qui è appartenente alla linea Robodossi Ma quella più metallosa Perché ovviamente se me lo vai a mettere vicino all'Ingram il metallo ci vuole Non è che ne puoi fare uno gombosino e l'altro duro Quindi è tutto quanto Da questa recensione io la faccio e poi mi dico Entra il mio deve ancora arrivare L'ho preso anch'io Mi chiedo entrerà nella mia collezione Come vi ho detto nell'ultimo video Io voglio tenere massimo 50 pezzi Quindi per avere 50 pezzi mi devi far fare wow Comunque bando alle ciance e iniziamo subito Pezzo da 139 dollari Quindi 130 euro Non so poi quanto l'abbia pagato ma penso quello quando vai a prendere completamente dalla 3.0 Poi di spedizione mi pare che costi poco Comunque iniziamo subito a vedere quelli che sono gli accessori Ragazzi non è tantissima roba C'è un bel manualetto carino molto semplice È in bianco e nero Il foglio di garanzia Poi andiamo a vedere il pilota che entra dentro E già ve lo dico non sono riuscito a metterlo dentro Perché fischia se sono dure Poi le mani Sei mani esposte più altre due Sull'ingram ragazzi Sull'ingram Ciao Sul griffon Ultralucide Belle Dettagliate Ottimo Questo qui è il jetpack Allora io griffon Non c'è lo mente sempre con le ali Però vabbè qui li contiamo come accessori C'è del metallo A parte quegli snodi in metallo ha un certo peso Voi come sapete io sugli accessori sono un po' particolare Se non c'è metallo non sia oltre leggero meglio per me Poi questo qui il tail stabilizer Lo stabilizzatore della coda si aggancia dietro Anche qui li vado a agganciare in un secondo momento Perché per farvi vedere gli snodi ragazzi Non è assolutamente cosa Allora abbiamo le ali Ali in plastica leggere Come vedete qui non ho i guanti E quindi sto facendo un casino Poi come vi dicevo di Paul Metto i guanti in fase di movimentazione Perché voglio evitare di lasciarli troppe ditate E questo le va già sopra Comunque ali dettagliate Ultraleggere E un bel nero lucido Niente di particolare Queste devono essere leggere Poi c'è la roba che ho odiato dell'ingram E il display stand Che non capisco come funziona Quindi non lo metterò su display stand Perché non lo sopporto Almeno questi altri zero Proprio si incastrano E non si sbloccano più Se qualcuno sa come farli funzionare bene Scrivetemi sotto E quindi niente ragazzi Pochi accessori Ma ribadisco 130 euro Siamo fascia entry Cioè a borderline Fascia entry Fascia media Di nuovo le fasce Non vuol dire la qualità Perché spoiler Qui di qualità ce n'è Però vuol dire Semplicemente a che prezzo Hanno deciso di darlo Comunque adesso ci andiamo a vedere Immediatamente il robot E vi do Immediatamente Quelle che sono Le caratteristiche del robot Perché so Cioè Ho un picco di view Ogni volta che Che do sto pezzo Quindi 470 grammi Per 24 centimetri Rotto Dipende se Estendi Quelle che sono Le caviglie O lo metti Sulla punta Delle piedi C'è Dicast All'interno Si può sentire C'è Dicast A contatto Nelle gambe Se non sbaglio Ma ho tenuto i guanti Perché Perché vabbè Di pole Non voglio lasciare Chi le editate Sapete che Con i miei Non me ne frega Assolutamente niente Comunque potete vedere Che c'è quella parte In tessuto Che c'è anche Con l'ingram Ma Per sua sfortuna Per il design Del griffon Praticamente La parte Degli avambracci Rimane Senza Non è coperta Dall'armatura In questo caso Scusate Non è avambracci Bicipiti Sembrano abbastanza piccoli Poi li andiamo a vedere Ma è proprio L'unica roba Che si nota al volo Quando l'avete in mano Avete in mano Un pezzo di ferro Cioè vi dà proprio Questa situazione Di Resistenza In mano È duro Ha snodi duri Adesso Ragazzi Ci andiamo a vedere Quelli che sono Gli snodi Allora La testa Va un pochino a sinistra Un pochino a destra Non vado in più Perché vedete Ha dei pistoncini Penso siano collegati Anche se non si muove niente Comunque Non penso si possa sforzare di più Ma va bene lo stesso Poi vedete Ha questa gimmick Quella per l'apertura Del cockpit Poi in fase finale Vi faccio vedere Una foto È facile Da attivare L'unica fregatura Di questa gimmick È che È facile da aprire tutto A parte estrarre il cockpit Non ce l'ho fatta Avrei potuto forzare Un po' troppo Ma ancora una volta Non mio Quindi ho evitato Di non rovinare La testa fa Tick tock Da una parte E dall'altra Vedete che ha Queste plastiche luminose Luminose Trasparenti Mica luminose Non ha lucette Allora Stessa cosa Adesso Un'altra cosa Particolare Dato che ha Del metallo Su metallo E il design È quello che è Praticamente Le spalle Sono a estrazione Si estraggono Un po' fuori Per non andare In contatto Quando gli date Una posa Più action Ragazzi Dovete infilare Il dito Tra la spalla Al busto Per evitare Il contatto Di un pezzo Dell'armatura Con l'altra Perché se no Andate a fare Del penchipping Andate a rovinare La roba Quindi mettete Il dito Estraete E poi sollevate Comunque Snodi durissimi Snodo All'avambraccio Abbiamo visto L'attezza della spalla Doppio snodo Su quello Che è il gomito Come vi dicevo C'ha le braccina Ragazzi Cioè per essere uno Così pompato E' l'unica roba Che Insomma Si note Soltanto da quest'angolo Però non vi state A fare problemi E' l'unica roba Che lascia un pochettino Perplessi Adesso Sulle braccia Su un ball Peg Sulle mani Su un ball Peg Butterfly joint In avanti Quello che serve Ab crunch Allora Per quella Che è l'armatura Sono davvero Sorpreso Per quello Che sono riusciti A fare Perché scende giù Abbastanza Ragazzi Quindi va bene Mi sono dimenticato Sulla vita Ma si muove Quello che si deve muovere Di far vedere nel video Adesso andiamo a vedere Quelle che sono le gambe E su quelle che sono le gambe Ragazzi Ho un problema Praticamente Penso che siano A estrazione Verso il basso Ma gli snodi Sono così duri Che non sono riuscito A far scendere Lo snodo Quindi Vabbè Comunque Diciamo che tiene questa Che non è un granché Però con l'armatura Così fai quello Che si riesce a fare Comunque Si aprono E si chiudono Un pochettino Quindi forse si può fare Qualche grado in più Mentre invece Chiusura al ginocchio Fisca ragazzi 360 gradi Doppio snodo Come di campione Poi rimane coperto Da quella Che è la tutina Allora Snodi Snodi Delle caviglie A estrazione Ragazzi Sul forum Si commentava Sul fatto che L'ingram Non li avesse No ce li ha Però sono talmente Duri ragazzi Che dovete estrarli Stessa cosa Questi sono Un pochettino Più mobili Di quelli L'ingram Dovete mettere Proprio forza Per tirarli giù Poi c'è Punta dei piedi E il tallone Quindi Va a risolvere Un po' Dei problemi L'ingram Che aveva In fase Sulle caviglie Certo non fa miracoli Perché il design È quello che O fai una Completa estrazione Oppure Così va bene Per essere onesto Figur da 130 euro Diciamo Ottima Su quella Che è la parte Snodabilità Fa tutto E molto più Di quello che deve fare Con figure Molto più blasonate Abbiamo detto C'è il dicas Ed è tutto quanto Verniciato lucido A parte quei pallini grigi Mi sono dimenticato Di controllare Adesso magari Vado giù A buttare un occhio Dimenticavo Con le ali Snodabilità Delle ali Che si aprono Avanti e indietro E non inficilano Il bilanciamento Che è una roba Da campioni del mondo Perché questo È un robot A stiletto Quindi con i tacchi Comunque si aprono E si chiudono A loro volta Si estendono Quindi va bene Ragazzi E non C'è La roba straordinaria Che se riuscite a fare È che Rimane bilanciato Quindi adesso Abbiamo finito Andiamo a vedere Quelli che sono I nostri Soliti confrontoni Quindi ce lo vediamo Subito con l'omino Del lego Che però Bazzicava durante La recensione Quindi vedete Due centimetri e mezzo Versus 25 Questa è la differenza Che fa Lo vediamo Con l'ingram Secondo me Come design È più figo Dell'ingram Però sta benissimo Mi sono dimenticato Di mettere una posa Dove combattono insieme Mi pare Sia il cattivo Comunque Va bene L'ingram In più aveva Anche le lucette Ma chi cazzo Accende le lucette Più di una volta Qui abbiamo Il galliant Che a me era piaciuto Molto ragazzi Sia per design Che per weathering E poi ho messo Un solo Perché secondo me Questa linea Cioè questi in particolare Stanno bene Con i SOC Sono in metallo Sono tune accurate Anche se un po' ridisegnato Secondo me Ci stanno tranquillamente A collezione SOC Perché hanno il diecast Da stessa maniera Adesso andiamo subito Di conclusioni E come al solito Pro e contro Iniziamo con il contro Dato che è poca roba Allora È un magnete Per le impronte Ha quel display stand Che io odio Magari è soltanto Un problema mio Però a me fa proprio schifo Anche se in realtà Suppongo che se uno lo sappia usare bene Va bene Ha i bicipiti piccolini È un problema Hanno risolto Al 50% Il problema Sulle caviglie Che aveva l'ingram Si possono estrarre Più facilmente Ma E la posibilità È ottima È davvero ottima Ma non riesce Completamente a risolvere Quello che è un problema Di design Alla fonte Il design del grifo Non il design Della 3.0 E ha pochi accessori Però io Onestamente Cioè Qui parliamo di anni fa Non è che mi ricordi molto Non è che mi aspettassi Molto di più Adesso Passiamo su Invece Quelli che sono i pro Allora È tutto quanto colorato Molto bene In nero Penso La parte grigina Non mi ricordo Poi vado a vedere Poi Allora Per cui Colorazione buona Precisa È straarticolato Per essere in questa fascia di prezzo Ragazzi È davvero Fa tutto quello Che deve fare Anche un pochino di più Per una roba Che costa 130 euro Terzo punto C'è il diecast Ragazzi E c'è il diecast Nei punti importanti Snodi Ma anche le gambe Anche a contatto Un po' come era La distribuzione Dell'ingram Se avete quello Comunque c'è Anche a tatto E per finire Ragazzi La roba che mi ha sorpreso È come cavolo Si bilancia bene Questo coso Cioè Non è un design Facile a bilanciare Questo è un design Alla 5 star stories Quindi con lo stiletto Col tacco Tacco e punta Non è Intuitifissimo Farlo stare in piedi Specialmente quando Io ho fatto fare Delle pose Un pochettino Più del cavolo E poi ragazzi Pro più grande Il prezzo Questo è Fascia di prezzo Basso Perché Basso Medio 130 euro Più o meno Con performance Da campionissimi Del mondo Quindi Dal mio punto di vista Se non ne avete uno È straraccomandato Se l'hoiamato Vi sta ancora in piedi Ovviamente Tenetevi l'hoiamato C'è un amico Che mi ha inviato Una foto Però vabbè Non ce l'ho voglia Di andarlo a prendere Per fare il confronto Però Questa fascia di prezzo Questa qualità Difficile da battere Anzi Diciamo allegramente Non so se C'è nessun altro Che faccia di meglio Quando 3.0 Decide di fare Le cose così Però Avevamo partito La recensione Chiacendoci una domanda Vi ho detto Io tengo soltanto 50 pezzi in colazione Questo mi sta arrivando Cosa faccio Lo tengo Rimane un filler Rimane solo Per un pochettino Di tempo E la risposta onesta È che Ci devo pensare Perché è molto bello Fa tutte quante le cose In maniera perfetta Che deve fare Però non mi fa dire Wow È davvero molto bello E quindi ho detto Vabbè Per ora rimane Quando arriva Rimane in collezione Per un po' Me lo guardo E magari è la classica roba Che più la guardi Più ti piace È pieno di pezzi Sentinele Che è di primo impatto Ti vanno a fare meme Ma poi Guardi posati E ti cinnamori Quindi per ora Rimane in collezione Insieme al suo compagno L'ingram Poi a seguito Onestamente Devo mettere Devo un pochettino Deciderci E quant'altro Dunque ragazzi Straraccomandatissimo Se non l'avete Prendetelo Potete soltanto Rimanerne Contenti A riguardo E da Robo di Megalop È tutto Settimana prossima Allo Shingheter Ciao E